Busellato, pronti per l'esordio? Si comincia con Salerno, intanto le tue prime sensazioni? Sì, penso che saremo pronti per l'esordio in campionato. Ora vedremo come sarà questo campionato, come si presenterà da subito. Penso sia un campionato difficile, quest'anno molto equilibrato e sabato lo scopriremo. Sei stato utilizzato con grande continuità tra pre-campionato e Coppa, chiaramente hai la maglia da titolare, che partita ti aspetti a Salerno? Sì, in realtà perché siamo veramente in pochi fino ad ora, quindi non c'era tanta scelta. Mi aspetto una partita dura, loro presumo siano una squadra forte, almeno dagli acquisti che hanno fatto. Sembra che sia una squadra molto forte, poi sarà il campo a parlare come sempre. Come sta il Pescara? Non so ancora dirglielo, penso che stiamo bene per ora, poi lo dirà il campo come ho detto in precedenza. Sei arrivato a Pescara con un biglietto da visita non male, ovvero oltre 230 partite in Serie B. Insomma, che giocatore è abusellato? Cosa pensa di poter dare a questo Pescara? Ma non lo so, valuterete voi durante il campionato il giocatore che sono. Spero di poter dare un po' di esperienza, visto le tante partite che ho fatto, e aiutare magari i ragazzi più giovani a crescere bene, perché sono quelli fondamentali per fare un buon campionato. Ti chiedo un'ultima cosa, in conferenza quando ti sei presentato hai detto sì, ho fatto tante partite, tanta sostanza, però mi manca un po' il gol. Hai immaginato l'esordio con gol alla Rechi, pensaci? Non l'ho immaginato sinceramente. Però? Sarebbe bello anche perché ho giocato lì, quindi segnare una squadra in cui si è giocato è bello. Mi esulteresti? Penso di sì, me lo segnalo due anni, se non mi esulta un gol lo farei sì. Bocca al lupo. Grazie.